GF VIP 7, Clizia Incorvaia, Antonella Fiordelisi, arrogante e presuntuosa Edoardo Donnamaria, è passato da casa nostra e oggi, in una delle consuete puntate di Casa Chi, è stata ospite Clizia Incorvaia, sorella di Mikol che è attualmente reclusa nella casa del GF ed è ufficialmente una finalista del reality. Clizia dapprima ha commentato il fatto che sua sorella sia stata la seconda finalista. Con queste parole, sto festeggiando da una settimana, per noi siciliani ogni occasione è buona per festeggiare. Comunque vada sarà un successo. E poi è tornata a parlare della storia d'amore tra Mikol e Edoardo Tavassi. Mentre alla domanda su cosa ne pensa di Antonella Fiordelisi ha prontamente risposto. Poi Clizia ha raccontato che Edoardo Donnamaria è passato da casa sua per salutare Paolo Ciavarro. Con cui Edoardo condivide una bella amicizia, e ha rivelato come lo ha trovato. Infine, quando le hanno fatto notare che anche Oriana Marzoli a volte può risultare simile ad Antonella in certi atteggiamenti, ha dichiarato. Qui e qui potete riascoltare le parole di Clizia. Edoardo Donnamaria è passato da casa sua per l'amore di Clizia. Grazie. 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 Grazie.